Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfair Games Io sono Valfair, il signore dei giochi e bentornati, bentornati ancora una volta su Metro Exodus L'acqua nella caldaia basta malapena per un tè e abbiamo anche finito il carbone Capisco, dobbiamo riuscire a trovare una soluzione Rifornimenti Anna, Damir, ho un altro incarico, cercate acqua e carburante Salve, prepara gli uomini, dobbiamo organizzare le difese Reggio auto Ci vediamo, cerca di fare attenzione, intesi? Rega mia perché vedo tutto un po' sfocato? Arti, dobbiamo scoprire chi sono quegli uomini con l'auto Potrebbero dei banditi qualunque ma non possiamo correre rischi Nessun problema, ci penso io L'auto era diretta al villaggio, a quanto pare li hanno un ripetitore che dovrebbe avere un po' di informazioni Proprio quello che ci serve ora Nessun problema, ci penso io Vai pure quando vuoi Crest, la tua motrice può trainare il treno? Ciao Artiom Ciao Ok, d'altronde, abituati a Mosca, al caldo Cioè, al freddo di Mosca, qui siamo nella merda più totale al caldo Quindi ci credo che alcuni dei soldati qui si sentono male Io sono senza proiettili però Ma non c'è nulla in giro che io possa utilizzare, craftare magari Un po' di proiettili Stai andando fuori? Dagli un'occhiata qui Guarda un po' cosa ho appena messo a punto Ho svuotato un paio di proiettili tiker e li ho riempiti di esplosiva Ed ecco delle munizioni esplosive Ok, allora Smonta, sì Per ora le smontiamo quelle del pompa che non ci servono Della pistola, sì Le smontiamo pure perché tanto la pistola diremo addio Cosa parte la Molotov? Non ci vediamo altro C'ho un nuovo mirino Mirino notturno Ok, no, non mi serve Laser a infrarossi Il raggio invisibile nel mirino di laser a infrarossi Produce un puntino molto piccolo sul bersaglio Solo con un visore notturno Ah, proprio ok Ecco, se no può essere sostituito Altre armi, altre cose, va bene La cappa è a posto La pistola è a posto Il tiker lo dobbiamo solo pulire L'attrezzatura è tutto a posto Possiamo andare a tirar bestemmie nel deserto Cosa c'è qui? Mutanti, anche qui? Ma porca miseria Ma lasciami 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 Via Via Pezzo di merda Crepa Soffri Soffri E che cos'è? Sti stronzi Prendono Mordono Ti saltano addosso Civilizzatevi un pochino Sembrato un cadavere invece Cosa c'è qui di buono? Oh Che arma è? Aspetta Sostituiamo la pistola, sì Ah, il fucile Bolt Action Buono Buono Questo sarà buono Ah no, questo è morto, morto proprio Ah, il fucile Bolt Action Può essere bello Allora Eccoci qui È questa la zona? No È quell'edificio lì Però io intanto mi esploro un po' Tutti i meandri Perché giustamente Non si può mai sapere Ok, oltre a Parecchi mutanti Oddio, siamo senza il caricatore nell'arma Veloce a ricaricare Arteon Ricarica 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 Ok, se ne sono andati Merda, 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 merda Merda Ricarica Cambia arma Ok La vedo un po' dura Qui ora Troppi mutanti Persone che ci sparano Tempeste No Di qua non si sale Da dove si può salire Ah, da qui Ok Questa strana tempesta Li sta uccidendo tutti i mutanti Merda Si è surriscaldato pure il silenziatore Eh, che fai? Mi tiri Mattoni Ok Ok, se c'è qualcuno è sopra Nel frattempo io prendo Roba in giro Oh, un gabinetto Non funziona però Ok Ricarichiamo un attimo Ora mi sa che dovremmo Sparare a qualcuno Qui Merda Ma perché mi aggredisci? Un errore? Te lo faccio vedere io l'errore Ti soffoco Ti faccio svenire Pezzo di merda Ma che si è che vogliono crepare? Ah, qui c'è un pompa No, mi tengo il bolt action Perché è divertente Sparare Fare un colpo Un colpo in ricarica È divertente Eh, minchia Ma siete resistenti, eh? Ah, ok Non c'è Proprio nulla qua sopra Da prendere Fare Non c'è nulla Ok Fine Via Ce ne potemo I re Alla Geronimo Stilton Non c'è nulla Merda Questo è perché Si surriscalda l'arma Ok Quindi questa cosa Serve per prendere il furgone Ma porca miseria Eh, se l'avessi data prima Pare che non ci sia modo Di scambiare due parole Con i proprietari del furgone No? Peccato siano così silenziosi Il furgone però è grandioso Non sono solo quattro ruote Ma anche un rifugio mobile In caso di tempesta Direi che pare fatto apposta Per la tua prossima missione Dovrai guidare un po' Mentre tu giocavi con la sabbia Sì Indicami la direzione allora Quel faro Vai a dare un'occhiata Quel faro Non sono davvero enorme Non potrai non notarlo Non per male Io da qui non vedo Non vedo fari in giro A meno che è qualcosa lì Però no, non credo Io non vedo fari in giro però Eh Ah ok Devo andare di là Ok Però io sono messo male Di munizioni E varie cose Quindi per ora Mi sa che per un po' Andiamo con il Ticar Però Credo che ci possiamo Momentaneamente Fermare qua ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Ovviamente Lasciate un mi piace E lasciate pure Un simpatico commento Detto questo Da Valfair Grimes È tutto Alla prossima Alla prossima